Eh, non ci si gira più qua dentro, guarda, guarda, guarda Momento! Ahia! Momento, arrivo! Pronto, Sisa? L'ufficio di abbendata? Ah, lei con la Santi! Com'è? Un altro fortunato da baciare, e quanto vincerà? Due miliardi, ma allora è tutto tipo Ah, me lo bacio proprio volentieri Sì, così faccio un po' di pulizia anche qui Va bene, va bene, vado? Che ora è? Ecco, lo sapevo, anche oggi niente parrucchiere Allora, la cornucopia è lì La benda Si caperai, valla a trovare Manela, dè bendata Bendata, soprattutto, beh E mi ha baciato, ma questa è la volta pure che smetti di lavorare Perché? Cosa fa? Parrucchiere Per signora? Non ho per uomo Ah, che sfida, fortuna Tocchiere La fortuna viene